Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al ricordo del commerciante gelese Gaetano Giordano, 24 anni fa in via Verga, sotto la sua abitazione, il profumiere fu assassinato dalla mafia per essersi ribellato al racket delle estorsioni. Oggi Gera lo ricorda. Aveva denunciato il racket del pizzo, le bande cadaglieggiavano i suoi negozi di profumeria. Il commerciante Gaetano Giordano aveva 55 anni quando il 10 novembre del 1992 sotto casa in via Giovanni Verga fu freddato dai killer. Gera era in auto assieme al figlio Massimo raggiunto da un proiettile che lo colpì al braccio. Giordano aveva sfidato la mafia gelese cacciando dai propri negozi, uno in piazza ed un altro nel quartiere caposoprano, i picciotti che gli chiedevano il pizzo. Il commerciante aveva presentato denuncia contro tre mafiosi del clan Gianni Cavallo, poi chiamati Siggiari. I killer uccisero Giordano, ma nei piani delle cosche quell'omicidio rappresentava anche un'intimidazione rivolta a tutti i commercianti. Colpirne uno per educarne cento. Da quel gravissimo fatto di sangue che calamitò l'attenzione nazionale di tutti, sono passati esattamente 24 anni. Oggi è il 10 novembre. Cosa ricorda di quel particolare momento? La confusione, la sorpresa, lo sconcerto, la paura, l'incredulità e il senso di impotenza. La città poi si è ribellata in merito proprio a quell'omicidio. C'è stata una rivalza anche perché il gesto è stato forte, non si era mai sparato per uccidere un cittadino normale a conseguenza di una denuncia. Certo le denunce erano poche ma al più c'erano atti intimidatori, non si mirava all'essere umano. Lei ha visto in faccia che ha ucciso suo marito, a distanza di anni è riuscito a perdonarli? Questa domanda è una domanda molto sottile. Io una volta l'ho posta persino ad uno psicologo. Dico è possibile fare domande di questo tipo a una vittima? E lo psicologo mi ha risposto. Non si sente in colpa se non riesce a liberarsi da questo pensiero. Io non li ho perdonati ma li ignoro. Hanno pagato per la società, basta. Sono persone che non mi toccano, né mi emozionano, mi lasciano assolutamente indifferente. Sono numerosi i commercianti e gli imprenditori che ultimamente hanno denunciato. Grazie proprio alla nascita dell'associazione anti-racket. Però ci sono tanti commercianti e imprenditori che non denunciano. Qual è il consiglio che lei oggi vuole dare pubblicamente? Posso suggerire di denunciare perché non credo che tra pizzo e tasse si possa fare una vita comoda. Quindi denunciare resta la cosa migliore anche per una questione di dignità. Poi oggi se si denuncia non si è soli. Non si ci espone. Se si vuole non si ci espone in prima persona. Le forze dell'ordine hanno anche modo di collaborare in maniera sottile senza che il soggetto diventi un bersaglio. Il 10 novembre del 1992 lei non era presente a Gela? Io ero a Milano, ero con mia figlia. L'abbiamo saputo la sera, quasi subito. Naturalmente non si sono pronunciati dicendomi hanno ucciso Gaetano. Mi hanno detto che aveva avuto un incidente. Io sapendo che c'era Massimo c'era anche una grande preoccupazione per mio figlio che nella stessa disgrazia è rimasto ferito. Lei poteva andare via da Gela in merito a quello che è accaduto però è rimasta, ha messo radici in città. Per quale motivo? Intanto il mio lavoro era il negozio. Un lavoro che avevamo messo insieme con mio marito. Sono passati 25 anni, forse di più perché io quell'anno ho fatto 25 anni di matrimonio quindi se ci mettiamo i precedenti era 28 anni che lavoravamo insieme. Tutto quello che era stato costruito sarebbe stato annullato in un Fiat. Quindi non avevamo solo la perdita del capo ma avremmo avuto la perdita di tutto quello che era stato il suo lavoro e il mio lavoro. Un po' per motivi di questo tipo e un po' perché io mi sono sentita accompagnata dalla città. Cioè la città non mi ha abbandonato, la città non mi ha respinto, la città è stata solidale, mi ha aiutato ad andare avanti. Una cospicua presenza di rifiuti di diversa natura abbandonati sul ciglio della strada che collega il litorale di Contrada di Susino alla statale 115 l'ha rinvenuta la guardia costiera di Gela. Nonostante sia stata effettuata un'attività di indagine che prevedeva anche appostamenti in zona non è stato possibile risalire ai responsabili dell'abbandono e si è provveduti ad informare l'ufficio ecologia del comune di Butera. Il sindaco Luigi Casisi si è attivamente adoperato per la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello Stato dei luoghi nel rispetto dell'ambiente e della salvaguardia della salute pubblica. La capitolaria di Porto di Gela sottolinea che è attivo il servizio ritiro ingombranti contattando il numero verde 800 193 750. La cooperativa sociale Nido d'Argento che opera Gela e a Partinico in provincia di Trapani ha assunto con contratto a termine per due ore al giorno dalle 9.30 alle 11.30 Samuele Di Natale, un ragazzo autistico nell'ambito del progetto di inclusione sociale di soggetti diversamente abili. Samuele, che vediamo nelle immagini, diplomato sito scorso giugno alla liceo delle scienze umane con il massimo dei voti, si è perfettamente inserito nel suo lavoro che svolge con costanza, puntualità e impegno e con ottimi risultati. Lo segue con particolare attenzione la responsabile del centro, l'insegnante Francesca Fauciana che è fiera dei grandi progressi fatti da Samuele nello svolgimento dei suoi compiti e del modo di relazionarsi con i colleghi di lavoro. Si tratta di un fatto sicuramente straordinario per un soggetto autistico che corona un percorso terapeutico sperimentale portato avanti a spese proprie e con enormi sacrifici dalla famiglia di Samuele con l'ausilio di logopedisti e fisioterapisti privati. E adesso apriamo la pagina della politica, riferendovi del nuovo ingresso nella giunta messinese. Si tratta di Rocco Darma, prende il posto del dimissionario Eugenio Catania. Rocco Darma, 50 anni, laureando in scienze turistiche, noto commerciante gelese, il nuovo assessore della giunta messinese, prende il posto del dimissionario Eugenio Catania. Titolare dell'agenzia Viaggi e Giri d'Oro, Darma è stato presentato oggi nella stanza del sindaco. Al neoassessore, componente del direttivo della Confo Commercio, sono state assegnate le deleghe allo sport, al turismo e alla polizia municipale. Fare il massimo con la massima umiltà, con la consapevolezza che la nomina e l'ingarico appena ricevuto, anche se da una parte mi inorgoglisce, dall'altra parte mi fa riflettere su tutte quelle problematiche che attanagliano la nostra città. Devo registrare che la cosa che mi ha più colpito in assoluto è la voglia di fare. A volte la voglia di fare non corrisponde esattamente con dei risultati, ma per arrivare ai risultati spesso e volentieri occorre tempo. La figura che va a completare la giunta messinese, verranno affidate le deleghe che erano libere e che consentiranno di riprendere un percorso importante avviato dall'assessore Catania, che ringrazio per il grande lavoro fatto, però bisogna pensare al futuro. Bisogna pensare al futuro, al futuro del territorio, che passa anche dal turismo, ed è per questo che la scelta è caduta proprio sul signor Dharma, che di fatto è un esperto in ambito turistico, dove lavora e che quindi può dare quel contributo di una professionista per poter rilanciare non a parole ma con i fatti il turismo nel nostro territorio. Oltre naturalmente ad altre competenze che gli consentono di poter gestire il territorio grazie alle sue specializzazioni per quanto riguarda la viabilità, la mobilità sostenibile, che serve per far diventare Gela una città che guarda al futuro, con interventi che sicuramente non potranno essere immediati, ma che nel medio e lungo termine potremo dare quelle risposte che tanti di Gela si aspettano. Ci sono 4.000 firme pronte da consegnare al Sindaco per la tutela del cartodromo il frutto di una petizione popolare che ha impegnato il gruppo politico di Fratelli d'Italia di Gela. Si tratta di un segno della volontà popolare di cui le istituzioni non possono non tenerne conto. Come segretario di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, non posso peraltro che ringraziare i consiglieri comunali Maria Pingo e Serra Bonura per la mozione che intendono presentare in consiglio a favore del cartodromo, del Palaribatino e del Parco di Montelungo. Sono certo che il consiglio comunale sarà favorevole alla mozione. E quanto dice che Tano Minardi desidero sensibilizzare il consiglio comunale, tutto rilancia Minardi in favore del ripristino e della successiva fruizione del cartodromo internazionale di Gela del Palaribatino e del Parco di Montelungo, la cui presenza attiva sul territorio, con una giusta manutenzione ed utilizzazione, potrebbero avere una ricaduta economica non indifferente e senza dubbio una ricaduta di immagine per la città che ne ha tanto bisogno. C'è un comportamento unilaterale da parte di Eni atto a destabilizzare le relazioni sindacali sul territorio con atteggiamenti provocatori palesemente incompatibili e incomprensibili. E' quanto denunciano le segretarie territoriali di Filtem, CGL, FMK, CISL e Wiltequil dopo aver condiviso accordi con il colosso industriale impostati sulla credibilità reciproca tra le parti. Le azioni messe in atto dal cane a se zampe rappresentano un manifesto intento di determinare un conflitto sociale. Gli assetti organizzativi unilaterali aziendali sulla conduzione degli impianti in esercizio risultano inadeguati e non supportati da una formazione specifica. Tale contesto, dicono le sigle sindacali, denota un obiettivo societario mirato solo ad una riduzione numerica di personale. E' evidente che con tale atteggiamento si vuole eludere il confronto tra le parti. L'obiettivo sindacale invece mira a dare ai lavoratori un assetto occupazionale senza condizioni di stress e con un'attenzione particolare sui temi della sicurezza della salute e della salvaguardia dell'ambiente. Quest'analisi si evince da una serie di comunicati fatti dalle rappresentanze sindacali unitarie e dall'esecutivo di fabbrica i quali hanno chiesto incontri tecnici in merito alle riorganizzazioni unilaterali presentate dall'azienda che evidenziano gravi essetti operativi sugli impianti registrando da parte aziendale il diniego del confronto e un atteggiamento di autosufficienza e di sostanziale indifferenza sottovalutando la preoccupazione sollevata dai sindacati. Le segreterie territoriali assieme alle RSU hanno contribuito con grande senso di responsabilità alla complessa gestione di riconversione e pertanto non accettano le modalità con cui l'azienda oggi intende gestire la fase di riorganizzazione del sito perché non è possibile continuare questo progetto in assenza di un confronto condiviso tra le parti. Filctem CGL, Femc CISL e Wiltequil rivendicano quindi il ripristino delle relazioni sindacali di fabbrica per una condivisione in merito agli assetti tecnico-organizzativi. In assenza di immediato riscontro aziendale sarà intrapresa ogni forma di azione di lotta. Gli studenti incontrano le imprese. Grazie al PMI Day domani oltre 45.000 giovani visiteranno 950 imprese che hanno aderito all'iniziativa che la piccola industria promuove in collaborazione con 70 associazioni del sistema Confindustria. All'iniziativa aderisce Confindustria Centro Sicilia preseduta dal gelese Rosario Amaru che in ambito territoriale da tempo ha creato una finestra di dialogo tra il sistema delle imprese e il mondo scolastico. Le scuole gelesi coinvolte sono Lettore Majorana e il Morselli. Le imprese locali che ospiteranno gli studenti sono la Amaru Giovanni e la Turco Costruzioni. La nostra iniziativa, afferma Rosario Amaru, parla ai giovani che rappresentano il capitale più prezioso del nostro paese. Vogliamo che il PMI Day sia per i ragazzi l'occasione di vedere le imprese da una prospettiva più ampia per conoscere cosa facciamo in azienda ma anche il nostro impegno per la promozione della cultura imprenditoriale e per la crescita del paese. Consegna degli attestati agli studenti che hanno svolto l'alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico 2015-2016. Si è svolta oggi nei locali dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Presenti il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Presidente della Confo Commercio ed il Direttore del Museo di Gela. Sentiamo il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Quest'anno con la legge sulla buona scuola si è istituito questo percorso di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi hanno già realizzato questo percorso e oggi raggiungono il traguardo, il giorno finale, sia la consegna degli attestati. Ma io voglio dire più che altro che questo percorso di alternanza scuola-lavoro si inserisce in un complesso migliore di istruzione, nel senso che con la buona scuola si dà questa possibilità. Questo percorso è già stato istituito, però il tutto deve contribuire a far sì che i ragazzi possano inserirsi nel mondo del lavoro in maniera migliore, in maniera più facile. A questo proposito la scuola è già aderita a un programma fixo che significa informazione e innovazione per l'occupazione. La nostra scuola è una delle poche in Sicilia che ha aderito a sposato questo progetto e da qualche anno, in particolare quest'anno, abbiamo istituito proprio lo sportello di placemente per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere la realtà produttiva del territorio e quindi dare possibilità alle aziende di conoscere le competenze dei ragazzi. Quindi quando le aziende selezionano i candidati sanno già dove vanno a pescare. Così dica se per i ragazzi riescono a sapere quelle che sono le esigenze delle aziende. Il tutto serve a mettere in moto questa procedura di alternanza scuola-lavoro che poi, diciamolo pure, in Italia ancora questa fase duale non si è realizzata mentre in Germania, in Svizzera, in Austria è già in atto e questo consente una diminuzione della disoccupazione che significa il sistema duale. Significa che i ragazzi fanno alcuni giorni di scuola e altri in aziende. Quindi consentono di acquistire delle specializzazioni. Quando escono, escono con un diploma professionalizzante e quindi contribuisce alla diminuzione della disoccupazione. Sarà attivo da oggi al Comune di Gera lo sportello contro la crisi da sovra-indebitamento gestito dalla Società di Servizi di Tutela Legale e Finanziaria Presidium. Il front office al secondo piano degli uffici di Viale Mediterraneo riceverà ogni giovedì dalle 16.30 alle 19.00 ed ogni lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.30. Secondo l'intesa, siglata con il Comune di Gera, lo sportello offrirà consulenza, sostegno gratuito ad imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti o semplici consumatori sulla base della legge del 2012 per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Gli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado Ettore Romagnoli di Gela coinvolti nel progetto dell'area a rischio modulo pace, fraternità e dialogo per una giornata sono diventati cittadini attivi della propria città grazie all'intervento dei volontari della pubblica assistenza Procivis, protezione civile di Gela. Accompagnati dagli insegnanti Barbara Caffà e Rita Tomasi, sotto la direzione della preside Sandra Scicolone, dopo un incontro scolastico tenutosi in Aula Magna, hanno visitato nelle ore pomeridiane la sede operativa della pubblica assistenza Procivis di via Ossidiana. Le attività sociali di informazione e di sensibilizzazione promosse dalla pubblica assistenza hanno permesso agli alunni di comprendere il funzionamento dell'ente che attivo dal 6 dicembre del 2002 conta numerosi volontari e automezzi. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci di seconda parte del telegiornale e che apriamo parlandovi della presenza dell'unità cinofila della polizia nella scuola Giovanni Verga di Gela nell'ambito del progetto percorsi di legalità. Dimostrazione operativa dell'unità cinofila della polizia di Stato oggi nell'istituto scolastico Giovanni Verga di Gela, diretto da Viviana Aldisio. Docenti e alunni hanno ascoltato le spiegazioni dei poliziotti sui loro compiti e nello specifico quelli delle unità cinofile. L'iniziativa rientra nelle attività programmate nell'ambito del progetto percorsi di legalità, progetto curriculare trasversale coordinato da Giuseppe Maria Spera con lo scopo di sensibilizzare ed avvicinare gli adolescenti alle istituzioni e diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle leggi. Questa è un'ottima occasione per trasmettere ai ragazzi della nostra scuola quali sono i veri valori della società, quindi anche far capire ai nostri ragazzi che determinate cose come devono essere trattate, il fatto di stare lontani dalla droga perché in ogni caso non ci sono a tutela della gente proprio queste unità particolari che hanno la possibilità di vigilare su tutti noi. L'evento, il progetto rientra in un ventaglio di attività ben più ampio laddove cerchiamo di potenziare nei nostri alunni quelle che sono le competenze trasversali che partano proprio dalla formazione dei futuri cittadini di domani. Conoscere le istituzioni è la base per sapere e conoscere il proprio territorio e perché no diventarne parte attiva. Probabilmente oggi per la fascia d'età cui noi rivolgiamo l'intervento in modo inconsapevole, un domani da cittadini formati e distruiti. Il commissario capo Laura Romano. È un contributo che diamo sempre molto volentieri perché la convinzione della nostra questura, del commissariato di Gela, per cui ringrazio anche il mio dirigente, è appunto quella di entrare nelle scuole per consentire ai bambini, agli uomini e le donne del futuro di sviluppare un confronto con la vita che è proprio l'aspetto più importante degli istituti scolastici, della scuola in generale. E il nostro contributo è quello di fornire una esemplificazione concreta di quella che è la nostra attività volta a prevenire il crimine. Come ogni anno i volontari dell'Associazione Diabetici Eschilo, preseduta da Giuseppe Curatolo, celebrano sul nostro territorio la giornata mondiale del diabete. Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare più persone possibili allo screening che quest'anno si terrà il 13 novembre nello spazio antistante alla parrocchia San Giovanni Evangelista dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Medici e volontari si succederanno nel corso della giornata nello stand adeguatamente attrezzato e saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere meglio la patologia e i rischi connessi per prevenirne l'insorgenza o le complicanze, qualora non diabetici. Domani, verso la scuola secondaria di primo grado Mattei di Gela di via Butera e presso i pressi Cantina Sociale di via Pablo Picasso, scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta e scuola primaria Nelson Mandela, si terrà la festa di San Martino, l'istituto, le famiglie e i rappresentanti di quartiere inizieranno i festeggiamenti alle 11.30. La tradizionale festività, oramai consolidata, vedrà i genitori degli alunni allestire e preparare le tipiche tavolate di San Martino con i prodotti che meglio caratterizzano la realtà culturale e gastronomica gelese siciliana. Coordinati da Ottavio Duichetta, gli alunni allieteranno la giornata con balli e canti tipici. della Sicilia. Un poster per la pace, si tratta del concorso promosso dalla Lions International che permette agli studenti di condividere con gli altri la propria idea di pace allo scopo di favorire la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture. L'iniziativa si svolge anche a Gela. Viene svolta nelle scuole medie, quindi per ragazzi che vanno dall'età da 11 a 13 anni e coloro che vinceranno per ogni scuola andranno avanti col concorso a livello circoscrizionale che significa interprovinciale tra N e Caltanissetta. Dopo questa ulteriore selezione si passerà a quella regionale che sarà a Palermo o a Catania fino a poi accedere alle finali conclusive a Chicago il premio di 5.000 dollari il primo, poi ci saranno altri 23 premi, questo a livello internazionale. Però nelle varie fasi ci sono pure altri premi e anche a Gela ci sarà la manifestazione di premiazione. E come bisogna partecipare? Allora già abbiamo informato le scuole, i docenti della disciplina stanno interessando i ragazzi, fanno fare i disegni su questo tema della pace e così una volta che noi andiamo a fare insieme agli insegnanti e alla selezione dei disegni poi li portiamo avanti così nelle varie fasi. La premiazione dovrebbe svolgersi tra dicembre e gennaio, ma al prossimo dicembre. Il Lions International di Gela ha altre iniziative che saranno al più presto concretizzate. Quest'anno ricorre il centennario della fondazione del Lions Clubs International e allora praticamente tutti i club siamo insegnati e ci siamo preparati per lasciare un simbolo alla città dove noi praticamente ci troviamo. Questo simbolo che noi vogliamo presentare alla città è la storia di Gela raccontata per immagine con gli acquarelli del pittore Occhipende tradotto in inglese dalla professoressa Finocchiaro e quindi noi questa manifestazione cosa intende? Noi la vogliamo dare ai giovani perché nel nostro service si sceglie di rivolgersi ai giovani perché i giovani sono quelli che si tramandano le tradizioni. La manifestazione avverrà a marzo dove noi inviteremo tutti i dirigenti delle scuole ai quali distribuiremo un opuscoletto, questo libro pubblicato con un disco in modo che poi loro lo possano anche riprodurre e diffonderla a tutti. E funziona anche come un marketing per fare conoscere il nostro territorio ai fini del sviluppo del turismo. È previsto per domenica prossima alle 20.30 al Teatro Eschilo di Gela lo spettacolo musicale del Lion King promosso dal CESMA della Chiesa Regina Pacis, una serata interamente dedicata alla solidarietà. Villa Ricavato infatti sarà destinato per aiutare e sostenere le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. L'obiettivo è quello di costruire una scuola. Il biglietto costa 10 euro. Per informazioni, rivolgersi a Salvatore Sammito al 340-500-1629. Ripetiamo, 340-500-1629. Viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra. Si tratta dell'iniziativa promossa a Gela dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune e del Museo Archeologico. Sabato 12 novembre alle 19, nel locale del Museo, resital del chitarrista Giuseppe Spalletta. La pagina dello spettacolo, appuntamento col cinema, all'antitolo di Gela e in protezione del film Lettera da Berlino. Sono due gli orari, ve li ricordiamo, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci eseguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.